Il dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè pare che si mangi molto bene. Conosco il cuoco. Non ho molta fame. Dopo tutto questo casino, io sto morendo. Mangerei una balena.